Guglielmo Maio già fa segno che è tutto ok, ciao, ben trovato Guglielmo. Allora Minotti c'è? Sì, Minotti e Almici abbiamo fatto, stiamo formalizzando solo il cartaceo. E il portiere, le ali? Come la situazione a Crotone già lo danno per Calabrese? Se loro pensano che sia così, hanno i loro motivi. Noi abbiamo parlato con la Juventus la settimana scorsa, stiamo facendo le cifre, i numeri per vedere come venirci incontro sull'ingaggio, quindi non credo che stiamo aspettando una risposta da Juventus per questioni di numeri. Tra l'altro i preparatori dei portieri si sono già sentiti per vedere il tipo di allenamento che dovrebbe fare. Poi se l'ha annoggiato la Juva al Crotone non lo so. E poi altre trattative? Intanto più i quattro che sono arrivati prende forma il lanciato. Sì, penso che arrivati Minotti e Almici, poi manca ovviamente il portiere che potrebbe essere le ali e un difensore centrale manca. Abbiamo qualche nome e poi penso che ci fermiamo fino alla fine d'agosto per vedere quello che succede. Esterni di Centrocampo? Esterni di Centrocampo? Ci interessa Ceccarelli della Lazio, Tommaso Ceccarelli, però pure quello è un discorso da avviare, tutto in fase embrionale. E per colui che prenderà l'eredità di Pavoletti e Testardi? Prodesse e Testardi e Fofanà. E poi ci lasciamo un posto vuoto per la fine d'agosto per vedere un po' quello che succede. Il sogno nel cassetto di Guglielmo Maio? Pavoletti. Il ritorno di Pavoletti. Che voto dà a questa campagna acquisti? Il lanciano scatenato proprio in questi ultimi giorni? Ma no, ma questa è una campagna oculata, una campagna fatta di scelte che per noi ci sembrano scelte di prospettiva, guardando molto al bilancio, guardando molto a quello che potrebbero dare questi ragazzi perché la politica che abbiamo iniziato l'anno scorso debba continuare. Quindi penso che sia una buona campagna. Poi ovviamente il campo che dirà la sua. Quanta hai voglia? Quanta voglia hai di vedere subito in campo questa squadra in partiti ufficiali? Beh tanto, è un campionato nuovo, penso che per tutti sia bello viverlo quest'anno. Sarà un campionato difficile, è difficilissimo perché è il nostro primo anno, perché non abbiamo mai fatto la categoria. Mi aspetto insomma che la gente ci dia una grande mano.